a seguire gli esponenti del potere come burioni che mi aggrediscono su twitter ma pensa se uno deve perdere tempo ma guarda no ma però questo lo voglio raccontare però per far capire far capire allora ho risposto a uno che diceva qualcosa sui vaccini sul virus e compagnia bella e dico guarda io da non vaccinato mi sono stato curato in cinque giorni con un antinfiammatorio e un antibiotico e poi però dico io da un anno che faccio prevenzione e volutamente li ho fatti cascare nella rete perché ho detto e prendo capperi e limoni naturalmente però devo dire un 10 per cento si è scatenato lui per primo a dire a come ha preso l'antibiotico ma lei è un ignorante ma non sa che l'antibiotico non serve e poi allora perché non ha preso anche lo zenzero e il peperoncino dico va bene qua che vi volevo dico possibile che uno come lei non sa che i batteri si infili scusa i virus per i quali gli antibiotici oggettivamente non servono però si infilano colonizzano anzi la flora intestinale quindi combattere i batteri intestinali in quel momento è utilissimo lo dice stramezzi ma lo dice molta letteratura internazionale e poi non sapete che la quercetina e l'esperidina che sono due sostanze notevolmente potenti nei confronti di questa di questa infiammazione e comunque di questo virus stanno in massima parte nei capperi e nei limoni e quindi non sapete niente siete delle bestie e allora devo dire che però il l'ottanta per cento era d'accordo con me e naturalmente un venti per cento invece che entrare nel merito ha cominciato ad aggredire cosa perché ho raccontato questa piccola storiella per dire che purtroppo come insegna mattia stesme nella sua libretto nel suo piccolo saggio piccolo nel senso che non è di molte pagine invece è molto importante psicologia del totalitarismo si scopre che il potere è riuscito a entrare nella testa di molta gente comune convincendola di cose che sono assolutamente false e quindi hanno hanno fatto delle persone comuni i loro lavardieri e quindi l'abbiamo visto lo vediamo proprio nel caso nel caso del virus dove se tu appena dici ma guarda che io veramente mi sono curato in cinque giorni quindi mi potevo vuol dire che tutti potevano fare lo stesso ti saltano addosso come come dei mostri ma è per quello che io te l'ho mandato ieri sera è appena uscito questo documentario che si chiama dial suddenly che è fantastico o meglio è terribile da un certo punto di vista perché da quando hanno da sempre hanno vietato le autopsie allora questi hanno avuto l'idea di andare a rivolgersi agli imbalsamatori e gli imbalsamatori ti fanno vedere che cosa hanno trovato nelle arterie nelle arterie dei 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 deceduti vaccinati e vengono fuori dei filacci delle robe terribili di sangue raggrumato e quindi che spiegano un po che cosa prova con le proteine spike questa roba va mostrata va fatta capire ma perché è soltanto la conoscenza che può come si diceva anche prima come ha ripetuto anche vanni e la conoscenza la consapevolezza che fa capire come dobbiamo potersi difendere sì questo documentario poi ne parleremo perché io sì lo avevo già visto già ricevuto in anteprima è molto crudo adesso lo tradurremo ma credo lo stiano facendo anche altri già ma dice delle cose terribili pazzesche e insomma tutte cose che se provate veramente è un disastro vanni tu ne hai avuto ne hai avuto sentore di questo documentario dai suddenly che sta uscendo anzi è uscito poi in realtà ieri sui circuiti di streaming quindi è già visibile girava girava anche insomma un po prima di sì sì io l'avevo avuto già qualche giorno fa ma vedete il il punto è che noi alla maniera socratica dovremmo ammettere di non sapere perché è un punto di partenza eccellente in realtà per riuscire poi a capire qualcosa e a trovare un senso di quello che è successo al di là delle persone come noi che magari un senso di altro tipo sicuramente non scientifico ce l'hanno già presente in testa